Buona notizia per l'ospedale Maria Santissima Adolorata di Eboli. Il reparto di nefrologia e dialisi è infatti un nuovo strumento per migliorare le attese dei pazienti e dare nuove prospettive agli ammalati. La novità sostanziale è che sono stati sostituiti i vecchi reni artificiali con oltre 8000 ore di lavoro ognuno con modelli di ultima generazione. Tutto ciò si è realizzato ricorrendo alla gara nazionale della Consip.